Grande fratello, chi è e che lavoro fa la vincitrice per Lavatiero? Con una finale un po' la sorpresa la 26enne di Angri, provincia di Salerno, è riuscita a battere la grande favorita Beatrice Luzzi. La giovane ha raccontato che non si aspettava di vincere. Queste le sue prime parole subito dopo la vittoria nel reality di Canale 5 che le è valsa 100.000 euro in gettoni d'oro. Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato in questi mesi. Senza di voi non ero qui e questo l'ho detto più volte. Sono emozionatissima, grazie davvero. Il mio è stato un viaggio, un percorso meraviglioso, magico. Non mi aspettavo tutto questo. Punto. Non mi aspettavo di vincere, sono sincera. Quindi per me è veramente tanto emozionante, grazie. E soprattutto ho ritrovato lui e riferendosi a Mirko Brunetti, l'amore. Andiamo ora a scoprire cosa fa nella vita. Perla Vatiero nasce ad Angri Salerno il 28 dicembre del 1997. Dopo la laurea in scienze motori e si trasferisce a Rieti per vivere insieme all'ormai ex fidanzato Mirko Brunetti. Proprio nel capoluogo reatino Perla ha realizzato il suo obiettivo, fondando il suo brand di abbigliamento, Perlistas, di cui amministratrice delegata è anche volto pubblicitario. Tuttavia la sua relazione con Mirko mostra le prime crepe. Dopo cinque anni, nel 2023, Perla partecipa con Mirko a Temptation Island. Lei afferma che, nonostante abbia lasciato la famiglia, la casa e le amiche per stare vicino a Mirko la nuova vita non la rende felice, lui è diventato da due anni una persona apatica e non dà stimoli alla relazione. Mirko, insomma, pensa solo al lavoro e lei si annoia. Durante il programma, Mirko lascia Perla ed esce con la nuova fidanzata Greta Rossetti. Proprio questo triangolo sarà di scena al grande fratello. Recentemente Mirko e Perla si sono riavvicinati, il ritorno di fiamma è servito. Perla è attiva su Instagram dove conta oltre 600.000 follower e 200.000 in più da quando ha partecipato al grande fratello. Ha anche un profilo su TikTok, con 203.000 follower e 2.9 milioni di mi piace. Per molte ragazze è considerata un idolo. Dalla sua ha una grande tenacia che ha dimostrato anche nella casa del GF scontrandosi ad esempio con Beatrice Luzzi, donna dal carattere forte e dalla buona dialettica.